Paolo Sassanelli Paolo Sassanelli Bellissimo, divertente E io quello volevo fare da bambino Quando mi sono messo il vestito di Batman Io ero Batman E mi sono buttato dal primo piano Mi sono fatto male Alla forse non eri proprio Batman Diciamo ero il cugino di Batman Quello più ingenuo Senti parliamo intanto di Pellecchia Qui nel metodo Fenoglio Beh Pellecchia è un personaggio bellissimo che viene fuori dalla pena di Gianrico Carofiglio e l'ha scritto bene, bene, bene perché rappresenta la baresità, un tipo di baresità e io ho avuto la fortuna di dedicarmi a interpretare questo personaggio e è veramente stato bellissimo, bellissimo perché è girato nella mia città, bellissimo perché è un uomo un po' rozzo anche ma molto intelligente, le due intelligenze, quella materiale di Pellecchia e quella sofisticata di Fenoglio si mettono insieme e allora diventano forti. Perché tu sei il suo braccio destro e lui invece ha tutto questo metodo etico morbido per così dire, quindi ogni tanto vi scontrate anche, forse è lui che spesso ti sgrida. Sì sì, io sono la mano ruvida e lui invece è l'essere arguto, essere sofisticato nel pensiero e nell'indagine e queste due cose però anche l'essere sofisticato ha necessità di materia e quella la fornisce Pellecchia. Ce la mette Pellecchia. Senti com'è questa Bari degli anni 90 dove la criminalità si sta organizzando ma sembra non volersene accorgere nessuno se non appunto il maresciallo Pietro Fenoglio? Allora, chi non conosce Bari di quegli anni entrerà in un mondo sorprendente perché era un periodo particolarmente vivo ma anche scuro, cupo. Noi l'abbiamo vissuta quegli anni, sappiamo che cosa vuol dire, che cos'era. Bari doveva decidere se essere una città, che è esattamente quello che è diventato adesso, aperta, curiosa, culturale, ospitale, oppure essere un buco nero della criminalità. Poteva diventare questo. Il metodo Fenoglio racconta proprio quel momento lì. Questa scelta, diciamo questo bivio. Diciamo questo bivio che in realtà mette, sai il cambiamento di Bari lo si deve soprattutto anche ai cittadini di Bari, lo si deve anche alla classe politica, lo si deve alla classe dirigente tra cui io devo sempre accettare Niki Vendola. Niki Vendola è il pulsante da cui è partito tutto. La Puglia adesso trova ad essere quello che è grazie anche a Niki Vendola. Questo bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo assolutamente. E quindi in quel punto, in quegli anni lì si racconta proprio quello perché subito dopo arriverà appunto Niki con le sue proposte, con il suo sguardo attento, attento alla cultura, allo sviluppo, al rispetto e adesso la Puglia è bellissima, diciamo che ce ne è rassegnatevi, siamo la regione più bella d'Italia. È vero, è vero. Un'ultima cosa, hai accennato alla cultura. In questa serie riviviamo anche una tragedia dal punto di vista culturale, non solo l'incendio del Teatro Petruzzelli. Io ero lì quella sera. Infatti ti chiedevo, te lo ricordi, come l'hai vissuto? Ricordo perché ero a casa di un amico, stavamo festeggiando il suo compleanno, a luna e mezza sono andato via, poi ho sentito rumori, grida, e un mio amico, Gianluigi Trevisi, che era lì nella festa con noi, c'era la telecamera che stava riprendendo noi, le immagini che poi sono girate su tutti i giornali nazionali e non, sono quelle sue, Gianluigi, con la cupola che sta bruciando. Che tristezza però. Però è stato ricostruito, questa è la cosa più importante. Un saluto a tutti di voi amici, parenti, cognati, cugini, va di moda, di Spettacolomania. Grazie.